Oh mia bella madonina Che te brilla Come trovam? Questa è la piazza, e di qua devono passare? Ve l'avevo detto però che era meglio non fargli un'improvvisata Ma c'hai ragione, ma qui siamo nel nord E poi è tutto più grande Adesso risolviamo però, chiediamo dove sarà l'ufficio postale Vuoi che non conoscono le picchetture? Ma a chi chiediamo? Qua vanno tutti di corsa, sono tutti turisti Ma come vengono, come vengono? Io l'ho salutato con un pulone bianco là, noi Chi parla? Non ci capiamo, no? Non ci capisci, non ci capisci, non ci capisci Spostare una poca per piacere Brigadiere, brigadiere, stacca lì Brigadiere E scusami Ah io che ti bevo per Ho stato vietto per due sotto pera mio E scusami Ha capito, ha capito Insomma, vuole un segretto Non ce l'abbiamo, una forbicetta per vendere lo stesso? Fa legname E scusami E scusami E voi? Noi chi? Voi, voi militare diciamo Io? Eh Siete di qua? Il segretto? Vuole per forza il segretto Non ce l'abbiamo il segretto Ti ha detto che fa legname Un coltellino non è lo stesso Ma sentite, fatemi parlare a me Non minte, non vede se non mi imbroglio Noi 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 Volevamo sapere l'indirizzo dove abitano Alberto e Mattia L'ho detto L'ho detto Quello uno calvo e uno con i capelli ricci che hanno fatto ben meno più assurdo Capisci? Sei che? Sei fissato con il segretto Ma facetemi parlare Non è che la mia nonna fa legname No Capisci 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 Dunque Noi abbiamo trovato due mani le nostre Uno si chiama Alberto L'altro si chiama Mattia Alberto non è l'uno Ma ti dà niente Poi 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 ti dà niente Ti dà niente Ah Alberto e Mattia Quelli di Benvenuti al Sud Ah certo si Di qui devono passare Però dovete aspettare un po' eh Un po' quando? Tipo A gennaio Se che?